Buongiorno, benvenuti all'intervallo del 30 dicembre 2020. Agrigento, Valle dei Templi, Pompei, Scavi di Pompei, Torino, Reggia di Vanaria Reale, Venezia, Piazza San Marco, Caserta, Reggia di Caserta, Pisa, Torre Pendente, Roma, Pantheon, Milano, Duomo, Firenze, Galleria degli Uffizi, Bergamo, Palazzo Agliardi, Verona, Arena di Verona, Martirano, Palazzo Apostolico Orsini.